ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco cosa banta emulsione confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere abbanta emulsione durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa banta emulsione a banta emulsione a un farmaco a base del principio attivo metil prednisolone aceponato appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi attivi gruppo ii e commercializzato in italia dall'azienda leofarma spa abbanta emulsione può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni abbanta 0,1 per cento emulsione cutanea 1 tubo 50 g informazioni commerciali sulla prescrizione titolare leofarma barra s concessionario leofarma spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo metil prednisolone aceponato gruppo terapeutico corticosteroidi forma farmaceutica emulsione indicazioni eczema acuto esogeno dermatite allergica da contatto dermatite irritativa da contatto eczema mulare eczema disidrosico eczema volgare ed endogeno dermatite atopica neurodermite da lieve a moderato eczema seborroico gravemente infiammato posologia advantana emulsione cutanea deve essere utilizzato topicamente e applicato in strato sottile una volta al giorno sull'area cutanea interessata con un leggero massaggio in genere la durata del trattamento non deve superare le due settimane nell'adulto nell'eczema seborroico gravemente infiammato le aree del volto interessate non devono essere trattate per pià di una settimana se si presentare in seguito all'uso di advantana emulsione cutanea una eccessiva secchezza cutanea che può dipendere dalle caratteristiche individuali della cute coinvolta si raccomanda l'uso di una terapia adiuvante neutra come emolliente cutaneo esempio una emulsione acqua in olio o un unguento popolazione pediatrica non sono richiesti aggiustamenti del dosaggio quando advantana emulsione cutanea ha somministrato ai lattanti di quattro mesi o più grandi ai bambini e agli adolescenti di regola la durata del trattamento deve essere ridotta al minimo indispensabile nei bambini la sicurezza di advantana emulsione cutanea nei lattanti al di sotto dei quattro mesi non ha stata accertata non ci sono dati disponibili controindicazioni advantana emulsione cutanea non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 presenza nella zona da trattare di processi tubercolari o luetici infezioni virali come erpesovaricella rosacea dermatite periurale ulcere acne ulgaris dermatite atrofiche reazioni cutanee a vaccinazioni patologie cutanee batteriche omicotiche vedere paragrafo 4 4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego i glucocorticoidi devono essere solo impiegati alla dose pia bassa possibile specialmente nei bambini e solo per il tempo assolutamente necessario per raggiungere e mantenere l'effetto terapeutico desiderato nel trattamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono noti ad oggi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere avvanta emulsione durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere avvanta emulsione durante la gravidanza e l'allattamento fertilità non ha disponibile nessuna informazione relativa all'influenza del metilprednisolone aceponato sulla fertilità gravidanza non ci sono dati adeguati sull'uso di metilprednisolone aceponato nelle donne in stato di gravidanza studi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari l'uso di avvanta emulsione cutanea non influisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari effetti indesiderati durante gli studi clinici il più a frequente effetto indesiderato osservato include bruciore al sito di applicazione la frequenza degli effetti indesiderati osservati durante gli studi clinici ed elencati nella tabella vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio i risultati degli studi sulla tossicità acuta con metilprednisolone aceponato non hanno dato indicazioni di alcun rischio di intossicazione acuta a seguito di applicazione cutanea singola di un eccessivo quantitativo applicazione su un'ampia superficie in condizioni che favoriscono l'assorbimento o di ingestione accidentale proprietà farmacodinamiche categoria farmaco terapeutica corticosteroidi potenti gruppo ii codice atcd 0 7 ac 14 meccanismo d'azione dopo applicazione topica advanta emulsione cutanea inibisce le reazioni cutanee infiammatorie ed allergiche non cacopiraito quelle associate ad iperproliferazione cellulare proprietà farmacocinetiche il metilprednisolone aceponato diventa disponibile dalla formulazione base dopo applicazione sulla cute e la concentrazione nello strato corneo e negli strati viventi cutanei diminuisce dall'esterno all'interno il metilprednisolone aceponato a dati preclinici di sicurezza tollerabilità sistemica negli studi di tollerabilità sistemica a seguito di ripetute somministrazioni sottocutanea e dermiche il metil prednisolone aceponato ha mostrato un profilo d'azione tipico di un glucocorticoide da questi elenco degli eccipienti trigliceridi a catena media trigliceridi degli acidi caprilico caprico miristico stearico macro goal 2 stear i lettere macro goal 21 stear i lettere alcol benzilico disodio e dettato glicerolo 85 per cento acqua depurata fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato